Eccoci, Breda, allora è arrivata la prima vittoria in casa, un po' di sofferenza all'inizio, soprattutto nel primo tempo, poi la Sanitana si è sbloccata ed è andata meglio. Sì, non è stato facile, perché siamo stati bravi a sfruttare delle pali inattive, però per noi era importante dare continuità ai risultati. All'inizio sono partiti meglio loro, poi sono stati bravi un pochino a cambiare registro e a dare più intensità alla gara, è bene così. Breda, scusa Fabrizio, chiedi un po' a Breda qui dalla postazione se lui da capitano storico si sente anche un po' il traghettatore nella riconciliazione tra proprietà e tifoseria. Mi chiede Gianfranco Coppola che è in conduzione se da capitano storico della Salernitana si sente un po' anche traghettatore verso una nuova conciliazione tra tifosi e società, insomma per andare tutti d'accordo verso un obiettivo comune. A traghettatore non mi piace perché è uno che va via dopo, però certamente la volontà è di ricale un rapporto contro tutti quanti in modo che il feeling sia completo e ci sia un volere riconoscersi in questa squadra a parte dei giocatori, dei tifosi e della società. Fabrizio c'è dalle due parti anche Simone.